Il film di Hollywood Che scuola fai? Il linguistico Istituto tecnico Come vai a scuola? Ma potrebbe andare meglio Ma alti e bassi, però rispetto a prima sono un drago Come mai? Sto lavorando su me stessa, devo capire perché mi sento così Ho cambiato scuola e adesso riesco a organizzare meglio i miei impegni Cosa è successo? Mi sentivo sempre fuori posto, anche con i miei compagni non mi sentivo benissimo In pratica, tra suonare in due band, vedere gli amici e andare a scuola Non avevo più il tempo per studiare Quindi? Non avevo più voglia di fare niente Ero come paralizzata e ho capito che dovevo fare qualcosa Avevo una tale confusione in testa che non sapevo come uscirne Allora ho deciso di cambiare Chi ti ha aiutato in questa scelta? Lo sportello Orientiamoci Raccontaci Ho parlato a una psicologa e ho capito che il vero problema non era la scuola Ma la poca stima che avevo di me stessa Parlandone mi sono accorto che mi ero infilato da solo in questo casino E avevo sottovalutato la scelta della scuola Ti è servito quindi? Sì, ho iniziato un percorso di rimotivazione La storia è lunga ma ce la posso fare Ovvio, ora riesco a fare ciò che mi piace e continuare a studiare Come hai saputo di questo servizio? Mi hai dato un ballantino alla prova Ho visto un manifesto in giro per la città Una bella esperienza? Sì, molto Ho capito che non ero l'unica al mondo ad avere questo problema Decisamente Ora sono molto più tranquillo Hai qualche consiglio da dare ai tuoi coetanei? Certo, posso dire che il confronto con gli altri è sempre un'ottima cosa Sì Se ci tenete veramente alle vostre passioni Non mollate Com'è la strada di un'ottima cosa Mi hai dato un'ottima cosa La strada di un'ottima cosa Se un'ottima cosa La strada di un'ottima cosa Inizialate Il'ottima cosa La strada di un'ottima cosa Grazie a tutti.